Atterra, atterra, atterra Non c'è vero, non c'è vero, non c'è vero Oh, io ne ho scelto un bunker, qui, davanti Io ne ho scelto un bunker Vedi che stavo in denso? Eh, vedi che stavo in denso Ma te ne ho scelto un bunker Io ne andrei da qua, andrei a un bunker Sarebbe da giorno Avremo bisogno di una macchina però Allora c'è gente, gente Guarda a me Oh no, c'è stato un bunker Sono quarantelore E tu voglio E tu voglio, sono quarantelore E guarda la trovo, non c'è Raffaele, è un bunker Ah, bro Oh, dove stas, stas qua, stas qua, stas qua, stas qua Oh, no Oh, Raff, hai dovuto fare? No, no, ecco, ecco, stas qua, stas sinistra Ma chi le ha davanti di destra, stas porta a qua? Dopo con questa porta? Chi è? Ma mi parli inglese, sono merito Chi hai fatto? Ma chi hai compreso? che t'hai rubato ma che t'hai rubato ma chi sta un merito però lui guarda andare a trovare Raffaele il capo Raffaele è Alibaba chi ha aperto la porta? Raffaele Sennò che ieri non poteranno capire Ora vai giù Sennò che abbiamo in mezzo in coppia Poi spi Ma sta un attimo in calma Mi aspetta un attimo in situazione Aspetta un attimo Aspetta un attimo Se non è un motore non era solo a me Hai visto? Hai visto? Dove sta? No, si hanno giù Sanno andando Sanno andando restando la verso storage Il nemico è stato qui Eeeh ma il nome è bellissimo Buon pocane 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 sta venendo Sto sp säger Sto spater irony paragraph Ca raffaele terra uno Mi aspetta Fassatemi Pocan table non ti preoccupi cosi niente non è successo niente ragazzi sono morti vado ti ho sguaglati entrambi non vi preoccupate ah tante culo arnon non vi pigliate paura oh! ho ti facetelo, ho ti facetelo me! non è che questo facetelo me? è me ma questo facetelo me! ehhhhh ma buoniii nooo ah è giusto io stanno passando a bingo eh lo so lo so una pingo in volo non ho capito Raffae scusami una pingo blu ah io ti dico che ti fai con giro ora fai mettendo il nanzo un po' di noi oh Gianni è spettate pronto mi fai una panno più a destra voglio chi è che sta a porto ok No vedi che c'è buono Metto l'endere! Metto l'endere! Oh bombardamento! Raffae! Trasarine! Trasarine! Raffae! Ah non lo so che mi ha fatto Raffae Ah si è strutturato Oh si è strutturato Oh si è strutturato! C'è una barre saggi saggi Salgo io Vado 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 Qui 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 Questi scendono da qua meglio Vai giù! non sto suicinando due coppie di abbasso raffa ma tutto questo giugno è stato per te ma questo giugno è una macchina mi piace mi piace mi piace e il muccio ha sparato porca puttana oh ha fatto questo porca puttana hai visto buono noi noi in gol no no troppo non è possibile siamo noi che stanno ripetendo la porta al capo che ci spara Paolo mi consiglio le cose tante 10 gocce alla mattina e 20 prima di andare a dormire ma c'è capito lo farò lo farò ma c'è fa uno su troppo azzine è la motte voglio un agio fatto no voglio ho l'HDL la coppa può scendere nessuno 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 sta arrivando un gazz un gazz ah voglio stare calmi vediamo che si è bascato il bunker vuole strisci eh voglio un ingresso il mio soldi è ancora un nuovo di me pensa tu come stavamo visto i bunker sono tutti chiusi ma invece quanta calma fps voglio pigliatelo la messa stanno per terra stiamoci appositi diciamo a me che c'è stato qua sotto? spostamento nella zona sicura un po' che roba vista sono un bizzono di Raffaele Raffaele ha usato la prova si può sparare più ragazzi a correzza come state? un cecchino la faccio in un sceme che ha sparato il fozzo il fozzo il fozzo è qua casse ah scusami prima ne aveva capito voglio munizione corazza sai che corazza si sta qui pochi a che c'è che c'è che c'è il bullfrog che c'è il bullfrog ragazzi arriva il gazz tutto questo eh spesso ci faccio le poche ora sai ma che anima letra si capisce Paolo io sa c'è una cosa che non ha mai servanno un gazz oh grig oh grig oh grig oh grig oh grig che è è meglio e qui si eh è meglio rpd si 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 che c'è che c'è che c'è che c'è nooo ha già perso c'è chi Paolo e ci stiamo muoendo paolo mannaggia p**** che c'è c'è ma ho aggiornato, mettete in sicurezza a quella posizione eh no, la pure di me fa, vuoi no gas oi canna, chi sei addosso fatto, chi sei vuoi? allungo, chi sei addosso fatto? mamma mia grande raga, il gas in arrivo, gas in arrivo vogliamo uscire il cammino e l'astoleggio andiamo sotto l'abbonato, sotto l'astoleggio c'è voglio, ma che c'entra un re l'ambiente? che c'entra un re, che c'entra un re? che c'entra un nome là? ho cercato è rosso, non c'è mai fatto caso eh, ho cercato i russi voglio, entrate qua stanno là mi muovo e come faccio il match mentre tutto quanto è qua? va qua io c'entra 5, non vuoi? eh, tutto quanto è qua, si manca pure ok con tuttometics ci sono i giorni andate sopra eh la, ci fà spiegare qua 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 qua? bravo il purolamare e in dentro generali che taccato quello che è? voglio, io ti voglio dire come ci fermo la zona mettiamoclocvi la e ci mettiamo queste r quando sucks questo metallo in arrivo sono un lanci9 si stanno a sparare siamo a me e ora voglio solo roccia sulle rocce a destra sulla destra ma non perde tempo però c'è chi ne va coso battito voglio dare su questa montagna via l'anno voglio sta gente c'è ma non so l'obiettivo 24 nemici rimasti falli fuori tutti io sono giusto ma ho cominciato eh non i Momenti voglio chiamare stranieri compri nella mezza lesse o Sadman suon connect ma m'è ha ma non c'è la miseria sull'inno ma non devi prendere il fatto ma non c'è la tua pelle voglio copritelo vai 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 movimento a terra a terra sono qui ne fai a me voglio attenzione voglio attenzione attenzione voglio usci per dimmi che ci siamo a scusare a scusare a scusare gas in arrivo nuova zona sicura chi l'ha messo chi l'ha messo siamo a casa siamo a casa siamo a casa vai vai siamo a casa ma lì di posizione attenzione c'è chi lo da giù c'è chi lo da giù c'è chi lo da giù guarda 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 attenzione attenzione tirate a me attenzione 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 bombardamento di precisione alleato in arrivo la pietra la pietra la pietra la otto otto persone otto persone attenzione attenzione guardammoci pure l'altra che si può e lo che mi sono sparato a rossa a rossa a rossa non fa bene non fa bene posizionamento qua qui mi ferma eccolo sono a terra sono a terra sono a terra voglio un attimo 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 vittoria vittoria rea vai manua e visse ali 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 vall ali a ragazzi ragazzi Ora li devo chuttare, non far niente ragazzi. Ragazzi, sui cantetti, la lavera, forse la succhia, forza. Su, canti, su, canti. 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 Dai, vieni, 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 vieni. Ragazzi. Ma ragazzi ho fatto più di tutti, scusatemi. Com'è sta storia? Grande mezzo, grande mezzo. Mamma mia, va giù, va giù, che emozione stai a te. Ho visto? Non ce l'abbiamo a bottiglia, ma ce l'abbiamo a portare. Oh, loco. Non ce l'abbiamo a bottiglia. Allora, in diretta, apriamo la bottiglia. La bottiglia. Eccola qua. La bottiglia, l'apriamo, la puoi aspettare. Blocca la partita però. Aspetta, blocchiamo la partita. Abbandona con le, un'arte, un'arte, un'arte. Qua giù è, l'emozione, l'emozione, l'emozione. È bellissimo. Dovevo festeggiare queste cose, venga? Ragazzi, è bellissimo. Voglio farci mangiare il fuoco, che è fin con il gruppo. Voglio! Vai, io, le prosti! Se ne ero! Non ci vuole, vai, vai. Vai! Aspetta la... Voglio farci mangiare il fuoco, che è fin con il gruppo. Aspetta, aspetta, soffa. un brindisi mamma mia ragazzi sono attimo facendo tutte le un attimo tutti gli engomi gli ho preso sta partita perché questa vittoria è per tutti voi per tutta la per tutta la chat per tutta la chat per tutte le ciocche e la chat